Ritocchi al processo Alexander contro il clan di Porta Nuova di Palermo. Delle 30 condanne stabilite dalla Corte d'Appello del capoluogo siciliano il 18 marzo 2015, 18 sono state ritoccate. Le pene sono state confermate per due secoli. Ad ottenere uno sconto sono stati Alessandro D'Ambrogio, che da 20 anni è passato a 19 anni e 8 mesi, Salvatore Asaro da 7 anni a 4 mesi a 4 anni e 4 mesi, Salvatore Alario da 1 anno e 2 mesi a 8 mesi, Antonino Ciresi 11 anni e 10 mesi, ne aveva presi 13 e 8 mesi, Giuseppe Civiletti e Marco Chiappara 10 anni a testa con una riduzione di 10 mesi, anche Pietro Compagno 10 mesi e 2 anni, Daniele Favata da 10 anni a 8 mesi a 7 anni e 8 mesi, Veronica Giordano che se la cava con una pena pecuniaria di 9.000 euro con mutazione dei 6 mesi che le sono stati inflitti. Infine, Attanasio La Barbera passa a 8 anni e 2 mesi, con uno sconto di 2 mesi, Antonino Serenella che passa da 15 anni a 13 e 4 mesi. Aumento di pene invece per Biagio Serenella, che da 12 anni è passato a 12 e 2 mesi. Per Chiappara Favata e Biagio Serenella i giudici hanno accolto il ricorso della procura. D'Ambrogio e i suoi fedelissimi sono stati condannati anche al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili come Federazione Anti-Racket e Confindustria Sicilia per un totale di 10.000 euro in totale.